Ripper per fare podcasting, la guida completa ad uno dei più famosi strumenti per l'editing audio. Ripper è famosissimo ma anche potentissimo, ci permette di fare musica, ci permette di fare voice over, audio libri e anche podcast ed è qui che ci concentriamo in questa guida. È uno strumento estremamente potente, estremamente versatile che a un primo sguardo potrebbe intimorire magari meno esperti. E allora che cosa ho pensato di fare? Beh di portarvi il riferimento assoluto italiano in ambito di Ripper perché questo corso è tenuto da Francesco Bonalume del canale dei Ripperiani che vi dico senza nessuna piageria essere una persona importantissima per il mio percorso perché è da lui che ho imparato praticamente tutto quel pochissimo pochissimo che so di gestione dell'audio. Quindi grazie a Francesco che ci prendi per mano e ci insegni questo strumento davvero molto molto interessante, molto potente per realizzare i nostri podcast. Vi linko nella descrizione di questo video naturalmente oltre che i riferimenti di Francesco al quale sono doppiamente grato per quello che mi ha insegnato col suo canale e per quello che ci sta insegnando con questo corso, con questo video. Beh vi linko oltre che i suoi riferimenti anche gli altri video che abbiamo intenzione di fare con Francesco perché sarà una piccola serie questa all'interno della quale è inclusa anche una live durante la quale potete fare le vostre domande. Per cui tutto linkato qua se volete seguire una cosa dopo l'altra e che dirvi grazie, grazie mille Francesco per quanto mi riguarda e mi trovate su Ciraulo.me per la newsletter settimanale, il canale Telegram, Twitch, Instagram, insomma tutti i modi per rimanere in contatto. Non posso che dirvi, godetevi questo corso perché sarà davvero molto molto interessante e che la magia audio di Ripper sia con voi. Ciao Andrea e grazie della possibilità di potervi fare questo tutorial sul tuo canale. Allora oggi parliamo di Ripper che è un software della Cocos che costa una sessantina di euro ma la demo non scade mai, ossia se voi scaricate Ripper e lo provate per un po', 60 giorni che diventano 80, che diventano 120, che diventano 3 anni, la demo non ha limitazioni e non scade mai. L'unica cosa c'è un piccolo splash all'inizio del software che vi dice di aspettare 5 secondi. Quindi è uno di quei software che potete scaricare e provare a vedere se vi piacciono e tra qualche anno comprarvelo oppure comprarlo subito dopo la scadenza di 60 giorni, se siete veramente veramente onesti. Ripper funziona sia su PC che su Mac che su Linux, quindi se t'apposto funziona anche sui nuovi Apple M1, quindi qualsiasi software è il benvenuto. Questo è uno di quei programmi che può spaventare un po' l'inizio perché è pensato per un utente che sta cercando una piattaforma di mix molto personalizzabile, molto complessa, può fare praticamente tutto e sta piano piano prendendo sempre più piede. Insomma, questo programma viene usato tantissimo nella post-produzione di videogiochi, ma anche ultimamente anche in televisione e soprattutto per la produzione di musica. Andiamo a vedere come scaricarlo, come configurarlo e come editare un podcast. Io lavoro in radio da una decina di anni, quindi sono abbastanza uno sclerato su come le voci debbano suonare nei podcast. E appunto in radio dove prendo le mie giornate, in cubo insonorizzato senza finestra e penso che si veda anche dal colorito della mia faccia. Andiamo a scaricarlo. E quindi eccoci qui sul sito di Ripper, andiamo in Download Ripper e abbiamo già qui i primi dubbi su cosa scaricare. Di solito si scarica semplicemente la versione 64 bit per Windows, se avete un computer vecchio dovete prendere quella a 32 bit, ma oramai penso che tutti siamo sui 64 bit. L'altra cosa comoda è che Ripper può anche essere installato in modalità portable. Che cosa significa? Un'installazione normale vivrà sul vostro computer e nel vostro utente con tutte le vostre configurazioni e non potete spostarla. La versione portable vi permette di prendere tutta la cartella di installazione, metterla su una chiavetta USB, portarvela al computer del lavoro e continuare a editare i vostri mestieri. Quindi una volta che abbiamo il nostro installer, doppio clic, esegui e lo andiamo ad installare. Appunto qui ci chiederà se vogliamo una versione portable o non portable, voi potete andare in quella proprio tradizionale, normale. Io creerò un'installazione portable che si chiamerà Ripper, Ciraolo, così almeno non vado a sovrascrivere tutte le impostazioni del mio Ripper, che è un pochino più complesso, diciamo che l'ho adattato a tutte le mie esigenze. Qui niente di particolare, non dovete mettere in più se volete un collegamento sul desktop, potete aggiungerlo. Andiamo ad installare Ripper, è velocissimo, pesa pochissimo, pesa una decina di mega e quindi è molto molto contenuto. Lui come prima passata farà un giro a cercare tutti i VST che avete installato. Cosa sono i VST? I VST sono degli effetti audio aggiuntivi che potete aggiungere a Ripper se non volete usare quelli integrati. Cosa significa? Ripper ha degli equalizzatori, dei compressori, dei limiter, dei riverberi integrati. Voi potete comprare anche degli effetti di terze parti, di qualità superiore o usare dei DSP esterni. Per questo che vi dico che è molto molto completo. Quindi nel primo volta che lo lanciate ci metterà un po' a cercare tutti questi VST. Io fermo la ricerca perché se no ci metto tre anni perché ne ho veramente troppi. E veniamo a contatto con questa prima impostazione che lui ci dice attenzione che scheda audio devo usare? Voi ditegli di sì, così vi porterà nella vostra impostazione della scheda audio. Qui è dove di solito l'utente meno schillato un pochino si perde e vi spiego tutto. Allora su Macintosh non c'è questo problema, su Macintosh gli unici driver audio diciamo che sono due. No, avete il core audio secondo me, basta, che va benissimo, usate quello, su Macintosh siete a posto. Su PC avete diversi tipi di scelte. Avete il WDM kernel streaming che è uno dei driver di Windows, è molto vecchio, arriva da Windows XP ma funziona benissimo. Selezionate WDM e qui selezionate la vostra scheda audio. Io ne ho mille, non vi spaventate, non ne avrete così tante anche voi. Qui potete scegliere appunto da che scheda audio registrare. Vedete che dice Input Device in questo caso. Io seleziono la mia Alesis Firewire Audio e come uscita selezionerò la mia Alesis che è questa qua. È questa schedona audio con otto ingressi. Oppure ho questa pollola a due canali, oppure ho questa Tascam, ho troppe schede audio. Voi selezionate la vostra. Se avete una scheda audio professionale, molto spesso queste schede audio escono con dei driver professionali audio, che sono i driver ASIO. Se avete una scheda che supporta i driver ASIO, usate i driver ASIO. Sono molto più stabili, registrazioni a lunga durata, sono molto più affidabili e soprattutto avete meno ritardi, poi in fase di ascolto in cuffia. Però diciamo che in una modalità di compatibilità il WDM prende qualsiasi cosa. Prende ad esempio i microfoni USB che non hanno dei driver professionali, verranno letti in WDM. Altrimenti se avete una scheda audio appunto più pro potete usare gli ASIO. Andiamo prima in ASIO, dato che la mia è una scheda audio professionale. Qui dovete dirgli di abilitare gli input perché vogliamo registrare e lui vi chiederà qual è la prima e l'ultimo ingresso che volete usare. Ossia io voglio che lui possa registrare dal canale 1 al canale 8. In questo modo prendo tutti gli 8 canali, da 1 a 8, per poter registrare il mio podcast. Qui vedete che la mia scheda audio ha molti molti ingressi. Se voglio ad esempio registrare solo dal canale 1, posso abilitare soltanto, vedete, dal canale 1 al canale 1. Stessa cosa per l'uscita. La mia scheda è ragione a bassi, ma qui di solito avete il vostro left e right. Anche qui ricordatevi che è un range, quindi voi non gli indicate l'uscita, gli indicate da che uscita all'ultima che lui può usare. Poi prendete le prime due che sono quelle che vi servono. Però è giusto saperlo, altrimenti vi perdete. Mi raccomando, non fate così, non fatemi l'uscita a uno come prima e ultima, altrimenti uscite in mono solo da una delle due cuffie. Molto molto scopodo. Richieste di sample rate e block sites. Questo qui è un altro discorso. È il discorso della configurazione del sample rate della vostra scheda audio. Io ad esempio lavoro a 48 kHz. Tutto l'audio professionale lavora a 48.000, 44.100 va benissimo per i podcast. Usate meno processore, meno spazio sull'hard disk. Non serve per i podcast andare più in alto a 80.000 e due. Non serve. O 44.100 o 48. Buona pratica stare allo stesso sample rate del vostro sistema operativo. Come fare a saperlo? Se andiamo nel pannello di controllo, quindi andiamo a scrivere control nel menu di start, andate in audio, andate a prendere la vostra scheda audio. Ad esempio io prendo la mia Alesis, vado nelle proprietà e in avanzate vedete che la mia è 32 bit, 48.000 Hz. Quindi posso dire anche a Reaper di andare a 48.000. E se lo scegliete qui dovete anche attivare il request sample rate. Block Sides, che cos'è? È quanto veloce il vostro computer comunica con la vostra scheda audio. Più è basso, meno ritardo avete in cuffia tra quando schiacciate play e quando sentite il vostro audio. Più state bassi, meglio è, però vi serve anche un computer più potente. Quindi se state sperimentando nei momenti in cui l'audio vi va un po' a scatti o sentite dei piccoli glitch, tipo dei piccoli pop e click, potete alzare il vostro Block Sides, che non sarebbe altro che il buffer della vostra scheda audio. Qui è dove si configura. I valori sono di solito 64, 128, 256, vanno a multipli di 2, 512, 1024. Vi sconsiglio di andare sopra il 1024 e sotto il 128, di solito il range è quello. Se avete un computer molto molto potente potete stare anche a 64, ma chi sei, Bill Gates? Allora, Reaper ci si presenta così. Guarda che bello, adesso apriamo anche tutta la schermata. Come vedete qui lui ci dice che Reaper non è gratuito, ci vogliono 60 giorni. Voi vedete che avete questi 5 secondi di attesa perché non ho ancora messo la licenza in questa versione portable. Ovviamente io invece me lo sono comprato. Facciamo allora un po' amicizia con questo software. Vi spiego come è suddiviso la sua schermata. Questa qui è la vostra transport bar, la possiamo vedere qua sotto. E vedete che avete al solito play, rack, stop, pausa, loop, avanti e indietro come qualsiasi altro software di lavorazione. Questo qui invece è il vostro mixer che ora è vuoto perché non abbiamo creato delle tracce. Questo qui invece sarà il vostro master, ossia sarà il livello audio di uscita quando poi andrete a stampare il file. Per creare una nuova traccia potete fare doppio clic in uno spazio vuoto oppure CTRL T creerà una nuova traccia. In Reaper non esiste differenza tra mono o stereo, qualsiasi traccia e qualsiasi cosa può essere midi, mono, stereo, 5.1, 7.1, 4.atmos, Reaper se ne frega. Vedete che tutti i controlli sono raddoppiati, cioè sia nella visualizzazione orizzontale, ossia qui è dove ci sarà il nostro audio che scorre da sinistra verso destra, e qua sotto invece c'è un mixer un po' come un mixer fisico, sapete, con tutti i fader. Reaper ce lo replica qua sotto in basso. Possiamo nascondere il mixer premendo CTRL M, se vogliamo vedere soltanto quello che stiamo editando, poi sempre con CTRL M possiamo ripristinare la visione del mixer o allargarlo. Io vi consiglio di allargarlo un po' e di imparare appunto questa scorciatoia per passare da la modalità in cui andate a fare i tagli, togliete i fiati, sistemate diciamo il vostro registrato e la modalità invece in cui lo lavorate su un mixer per migliorarne le sue proprietà appunto più audiofile. Quindi CTRL M, se vi scompare questa qua, questa transport bar, ogni tanto succede se fate qualche casino con le scorciatoie, nel menu view abbiamo praticamente tutta la possibilità di mostrare e nascondere tutte le finestre di Windows. Quella del transport è appunto questa che si chiama transport oppure CTRL Alt T, vedete che scompare. Questa vi consiglio di lasciarla sempre visibile, è molto comoda e se vi scompare sapete che con CTRL Alt T o su Mac è mela, non c'è più mela, è Command Alt T, esatto, è un po' che non uso Macintosh. Per cancellare una traccia basta semplicemente premere il tasto DEL selezionandola, al momento ce ne serve soltanto una. Cosa altro fare prima di iniziare a registrare? Reaper è pensato per fare musica e quindi non ha, e quindi ha una griglia che va con i BPM, un po' come un direttore d'orchestra che dal tempo all'orchestra, Reaper cerca di darci questo tempo che nei podcast è assolutamente inutile. Quindi possiamo spegnere questa griglia, vedete che ci toglie questa divisione verticale che nei podcast è assolutamente inutile. Vi spiego gli altri tastini che cosa sono adesso mentre ci lavoriamo. Quindi vediamo come registrare, noi abbiamo la nostra traccia in cui vogliamo registrare, possiamo nominarla facendo doppio clic e possiamo dirgli voce introduzione ad esempio del nostro podcast. Facciamo clic destro su questo tastino che è il record arm disarm. Quindi andiamo a selezionare l'input, io posso selezionare ad esempio l'ingresso 1 della mia scheda audio o dipende quanti ingressi avete, vi ricordiamo che nelle preferenze le trovate qua in alto, se voi cliccate qua in alto a destra tornate nel pannellino delle preferenze audio dell'inizio, ad esempio se io faccio da 1 a 8, adesso quando vado a fare clic destro input mono posso scegliere in quali dei miei ingressi o se volete un ingresso stereo potete vedere, potete prenderli a coppie. Prendiamo l'ingresso che mi sta più comodo a me, che è l'ingresso 3 ad esempio, e attiviamo il record arm. Vedete che la traccia diventa rossa, significa che questa traccia è armata e pronta per registrare. Vado ad attaccare un microfono giusto per fare una prova. Sì, ho un cassetto pieno di microfono, i problemi di questo lavoro. Vado a prendere il mio microfono, vado a prendere un cavo XLR, ecco qua il mio cavo XLR, entro nell'ingresso 3 della mia scheda audio e vado appunto a registrare questo. Perfetto, come vedete ora Ripper ci dà una preview del livello di registrazione, ma non sentiamo ovviamente in diretta il microfono. Ora qui c'è la grande divisione di come ci si ascolta in cuffia mentre si registra. Uno dei modi è usare il mixer interno della vostra scheda audio, quindi con il direct mix oppure con il software di mixer interno, andiamo a portare il nostro ingresso 3 nella nostra cuffia se vogliamo sentirci in diretta. Altrimenti possiamo passare da Ripper. Se noi premiamo il tasto, questo qua di fianco, vedete il record monitoring on, se io lo accendo, ora vedete che ora mi stai sentendo dal microfono attraverso Ripper perché ho attivato il record monitoring. Qui è dove ci viene utile quella configurazione di cui vi parlavo del buffer. Se usate un buffer altro vi sentite in ritardo in cuffia ed è molto difficile parlare con il ritardo in cuffia. Se usate un buffer basso questo ritardo sarà molto molto più basso. In questo caso spengo il record monitoring in modo da non darmi fastidio da solo. In questo caso posso già procedere alla registrazione. Tenendo il tasto REC o CTRL R vedete che sto già registrando. Sui livelli di registrazione, mi raccomando, il livello corretto è quello compreso per la maggior parte delle schede audio tra i meno 24 e meno 18. Vedete ora sono ancora un po' bassino, potrei dare un pochino più di gain con la mia scheda audio. Vedete per mettermi lì in quella zona tra i meno 24 e meno 18 è un buon posto dove stare nella maggior parte dei casi. Se avete delle schede audio di fattura un pochino meno professionale vi consiglio di stare un pochino più in alto tra i meno 18 e i meno 12. Mi raccomando, cercate di non andare mai sullo zero, non è mai una buona idea. Una volta che abbiamo finito di registrare, Ripper ci chiede, ok, dove vuoi salvare questo file? Ossia vuoi rinominarlo, vuoi cancellarlo o vuoi salvarlo? Di solito io disattivo questa funzione, quindi tolgo l'on stop e dico save all, in modo che tutte le volte che registro lui semplicemente registra, non mi interessa né rinominare né fare niente. Vedete che ora non mi chiede più niente quando registro. Quindi la nostra traccia è pronta, il nostro microfono è pronto, stiamo registrando. Abbiamo deciso se ascoltarci o meno in cuffia, in tempo reale in cuffia. Vado a prendere un paio di cuffie. È arrivato il momento di registrare. Allora, prima di registrare vi consiglio questa cosa. Andate in File, Project Settings. Queste qui sono le impostazioni del vostro progetto. Qui appunto andate a decidere il vostro sample rate ad 8000. e qui potete poi decidere altre cose, ad esempio il formato in cui registrate. Il mio consiglio è di tenerlo su Wave 24-bit. Se dovete fare delle registrazioni molto molto lunghe e volete risparmiare circa il 50% del vostro hard disk, potete registrare in FLAC. È un altro modo compresso di registrare senza perdere qualità. Se proprio avete pochissimo hard disk, potete registrare direttamente in MP3, cosa che vi sconsiglio. Di solito, Wave 24 è già un buon file per un utilizzo professionale. Vado ad ascoltarmi in diretta in cuffia e in questo caso sto sentendo che mi sento in ritardo. Ed è molto difficile parlare così. Sentite la doppia. Sentite, in questo caso, sto tenendo aperto sia il mio microfono che l'audio che arriva da Reaper, in modo che sentite questo ritardo che c'è in registrazione. Se sentite questo ritardo, appunto, se torniamo nelle impostazioni della nostra scheda audio, possiamo andare a richiedere un block size più basso, 240. Vedete che ora il ritardo è molto molto inferiore. Di solito, se state a 128, riuscite a registrarvi correttamente. Va bene, facciamo una registrazione, così abbiamo un file di test molto chiaro. E allora, benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo e in questo podcast andremo a scoprire che cosa sognano, perché lo sognano e soprattutto in quante ore. Ci sono stati molti, molti studi da parte della Oxford University che sono andati a indagare su questo mistero che è il sogno delle pecore e lo andremo a scoprire in questa puntata. Potete usare il tasto della barra spaziatrice per andare a, adesso, fare play o stop. Sognano moltissimo. Questa qui è la nostra registrazione. E allora, benvenuti al podcast in cui parleremo. Possiamo togliere l'arm record in modo che, diciamo, a Reaper di non registrare sopra, perché se in questo momento schiaccio CTRL-R, lui mi avvisa, attenzione, non hai nessuna traccia armata, perché Reaper deve sapere in che tracce tu vuoi registrare. Quindi, così, diciamo che togliete la sicura e poi con il CTRL-R fate partire la vostra registrazione. L'editing di base in Reaper è molto, molto semplice. Il tasto S è quello che userete di più che è quello per tagliare le clip. Vedete che se premo S, ora queste due clip sono state, appunto, divise e sono spostabili singolarmente. Una volta che le avete spostate, potete premere il tasto DEL per cancellarle. Un altro modo di tremare all'inizio e alla fine delle vostre registrazioni è appunto arrotolare o srotolare l'audio. Vedete che niente di tutto questo è distruttivo, ossia se arrotolo fino qui l'audio, poi posso sempre risrotolarlo e recuperare la prima parte della mia registrazione. La stessa cosa succede anche se taglio. Se io taglio all'inizio, vado a risentire il podcast in cui parliamo e mi rendo conto che ho tagliato troppo, posso semplicemente srotolare indietro il mio audio. Reaper è quello che si dice una non linear di AW, quindi niente si crea, niente si distrugge, tutto è recuperabile. No, niente si distrugge, no, niente si crea. Si creano un sacco di cose con Reaper. Quindi, questa qua è la mia registrazione. Vado a tagliare anche la fine e andiamo a vedere come migliorare questo audio. Voi potete spostarvi praticamente nel tempo semplicemente cliccando in giro o cliccando sulla barra in alto del tempo. Vedete 8 secondi, 16 secondi, 24 secondi, giusto anche per avere un'idea di quanto è lunga la vostra registrazione. Vedete qua che sono 24 secondi. Come potete vedere, il livello lo vediamo anche qua sotto nel mixer, che sarà lo stesso livello che uscirà in registrazione. Se noi abbassassimo il volume della nostra traccia, vedete che anche il nostro file stampato sarà molto più basso. Allora, andiamo a fare un po' di editing un pochino più volento. Vedete che se premo il tasto spazio, tutte le volte che mi fermo io torno all'inizio, cioè torno da dove sono partito. Allora, benvenuti al podcast in cui... Se voglio invece fare pausa, devo usare il tasto invio. Allora, benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni. Ad esempio, qui voglio togliere questo spazio vuoto, quindi se uso il tasto invio, mi fermo ma non torno da capo. Quindi qui, ad esempio, posso premere il tasto S, posso premere un altro tasto S per andare a tagliare questo spazio e posso cancellarlo. Mi rimane il buco. Qui è dove vengono fuori questi tastini qua in alto. Quindi, una volta che ho selezionato la porzione di audio che voglio cancellare, ho questo che si chiama ripple editing, che si può attivare con Alt-P. Vedete che si illumina il tastino. E ci sono tre modalità. Disattivato, ripple editing per traccia e ripple editing per tutte le tracce. Quella più comoda è la ripple editing per traccia, cioè con soltanto due pallini accesi. In questo caso, se vado a cancellare questa porzione di audio, lui me la cancella e mi sposta tutto l'audio verso la sinistra per colmare il buco che ho fatto. Delle pecore. Ad esempio, anche questo, se faccio S, S e cancello questa parte, io vado a spostare tutto il mio audio indietro. Siamo dei sogni delle pecore. S, S, cancello. E così possiamo compattare un po' il nostro intro e renderlo un pochino più spumeggiante. A che cosa serve il ripple editing con invece sei pallini attivi? Serve per spostare anche le tracce sotto. Vi faccio un esempio. Se io mettessi, ad esempio, un piccolo inserto musicale alla fine della sigla, Ad esempio, ho caricato questo piccolo stacchetto musicale, cosa succede? Se io adesso voglio andare ad esempio a cancellare questo fiato, faccio S, S. Se cancello con soltanto un puntino del ripple, lui mi sposterà indietro tutto l'audio verso sinistra, ma non sposta il mio stacchetto musicale. Se invece attivo i sei pallini del ripple, quando cancello questo fiato, vedete che mi ha spostato indietro anche la mia sigla. Questo è comodo se avete montaggi un pochino più complicati e a volte dovete togliere un'intera sezione di audio. È molto comodo che tutta la vostra sessione vi segua al posto di dover cancellare, prendere questo, spostarlo qui, prendere questo, rimetterlo a posto. È un sacco di tempo risparmiato. Il ripple editing è molto molto comodo. Vi ricordo sempre che se volete tornare indietro di qualsiasi vostra operazione, come in tutti gli altri programmi, il ctrl z vi torna indietro e il ctrl shift z vi rifà l'operazione, quindi possiamo andare indietro nel tempo o avanti nel tempo nelle operazioni che abbiamo fatto. Togliamo questo fiato che non mi piace con il ripple editing. Ho dimenticato il ripple editing, lo attivo, alt p e poi cancello. Cosa sognano? Perché lo sognano e soprattutto in quante ore? Ci sono stati molti molti studi da parte della Oxford University che sono andati a indagare su questo mistero che è il sogno delle pecore e lo andremo a scoprire in questa puntata. Ad esempio questo stacchetto musicale del nostro podcast è troppo troppo alto, abbiamo la regolazione del suo volume in più modi. Possiamo regolarlo dal mixer oppure possiamo ampliare la visualizzazione della nostra traccia e regolare da qui il volume. Vedete che sono collegati, posso regolare i volumi sia qua a sinistra che qua sotto in basso nel suo mixer. Abbassiamolo un attimo. Oppure posso cambiare il volume della clip. Vedete che se andate nel bordo superiore della vostra clip, il mouse diventa una freccina. Se voi tenete premuto e trascinate verso il basso, cambiate il volume del clip, cioè il volume della clip. Vi segnala qua sopra di quanti dB. Molto molto comodo. Questo ovviamente funziona su tutte le clip. Non vi permette di dare più volume, quindi se volessi aumentare il volume, ad esempio, di questo fiato, perché sono pazzo, dovrei tenere premuto il tasto Shift. Se voi tenete premuto il tasto Shift e trascinate verso l'alto la clip, vedete che sto alzando il volume di questo fiato. Rispetto al suo volume originario, che era questo. Che indagare su questo mistero. Un altro modo di manipolare il volume è quello di fare clic destro, take volume envelope. Questo ci permette di avere un volume della nostra clip regolabile, però nel tempo. Andiamo a disegnare un po'. Ad esempio vogliamo che questa base entri forte e poi sfumi piano piano, perché sopra inizia la nostra puntata. Possiamo andare a disegnare un'automazione. Tenendo premuto il tasto Shift, vedete che il mio cursore diventa una freccia che va verso l'alto. Qui possiamo aggiungere dei punti per disegnare la nostra automazione. In questo caso ho disegnato due punti e vado ad abbassare il volume. In questo modo vedete che ho una discesa di volume. Ho una salita di volume. Ad esempio potrei andare a portare poi lo sfumo verso in fondo. Questo è un modo di sfumare in Reaper abbastanza efficace. Ce n'è un altro anche molto più veloce, che è quello di prendere il bordo in alto a destra della nostra clip e trascinare un fade. Vedete in questo caso che vi porta a creare uno sfumo di volume molto efficace. Se volete cambiare la forma di questo sfumo potete fare clic destro su questo fade che avete creato e cambiare la forma di questo fade, usare diverse curve logaritmiche o lineari, come vi suona meglio all'orecchio. Ora che abbiamo capito come manipolare queste cose possiamo anche fare qualche taglio un pochino più complesso. Ad esempio, se noi vogliamo alzare questa porzione di audio che è rimasta un pochino troppo bassa di volume, questo pecore è un pochino troppo basso, faccio clic destro, take, volume envelope, posso creare dei punti e andare ad alzare il volume. Questo è un modo, oppure posso tagliare solo la porzione interessata che voglio alzare di volume e alzare tenendo premuto shift e trascinando verso l'alto il gain di questa parola. In questo caso questa clip vedete che ha 8 dB in più di quella precedente, questo è un altro modo di alzare il vostro gain. Vedete che poi quando create un taglio, Reaper vi crea in automatico questi piccolissimi fade, durano pochissimo, stiamo veramente parlando di qualche millisecondo. Possiamo aumentare, diminuirli, toglierli totalmente oppure possiamo, vedete, srotolare la take verso quella precedente e lui ci creerà il classico crossfade per nascondere i nostri tagli. Reaper in automatico li crea, quindi se io adesso ad esempio andassi ad anticipare questa traccia audio per fare in modo che ci sia meno spazio tra queste due parole, vedete che lui in automatico mi crea un fade, questo è molto comodo, vi permette di non avere nel vostro registrato i classici click, pop e quei suoni molto poco naturali, quindi su ogni taglio noi possiamo andare a inserire, vedete, questi piccoli fade semplicemente trascinando il tutto. Ricordatevi che ho il ripple editing aperto. Se non volete che Reaper vi crei in automatico questi fade, potete togliere la funzione di autocrossfade con la scorciatoia Alt-X. Bene, abbiamo fatto la nostra intro, c'è il nostro stacchetto musicale, possiamo anche mettere degli effetti di foley sotto la nostra introduzione. Ricordatevi che ogni traccia può essere ridimensionata praticamente in verticale, può essere stretta, può essere allungata, basta trascinare ogni traccia, possiamo avere più controllo del mixer, un mixer più compatto senza i nomi, è tutto, è praticamente spostabile in Reaper, potete fare quello che volete. Una delle cose che mi piace fare è spostare il mixer, ad esempio se andate qua sotto sulla linguetta del mixer e lo spostate verso destra, potete tenere il vostro mixer a destra mentre lavorate, anche questo è molto molto comodo. Poi vedete che il mixer quando è bello aperto tutto in verticale è più comodo, io mi trovo meglio così. Se non vi piace prendete la linguetta del mixer e la spostate dove volete, a sinistra, a destra, in basso, sopra, come siete più comodi. Io a me piace tenerlo a destra personalmente così posso anche spostarmi. Benissimo, fatto questo andiamo ad aggiungere del foley, vado a prendere un crowd cheer. Io sono abbonato a Splice che è un servizio, un abbonamento che ti dà tutta una serie di suoni d'ambiente, di applausi, di piccoli stacchetti musicali, è molto molto comodo. Ad esempio vado a trascinare qua un applauso. In Reaper potete trascinare dentro praticamente qualsiasi cosa, se volete inserire un file all'interno Reaper. Ad esempio se avete registrato su un telefonino, su un registratore portatile, avete la vostra memoria SD con dentro i vostri file, come si mette dentro Reaper? Create una nuova traccia, potete premere il tasto INS e lui vi chiederà un file WAV o MP3 o VORBIS, qualsiasi cosa da inserire e lui ve lo inserirà. Oppure potete semplicemente trascinarlo dentro il programma, un'olta che lo trascinate siete a posto. Ad esempio abbiamo questo foley con un applauso. Il volume è decisamente troppo alto, quindi possiamo abbassare il volume di questo applauso. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo e in questo podcast andremo a scoprire che cosa sognano, perché lo sognano. Mettiamolo qua che fa più ridere. In questo podcast andremo a scoprire che cosa sognano, perché lo sognano e soprattutto in quante ore. Ci sono stati molti, molti... Una cosa tecnica, vedete questa piccola i che c'è sopra questo audio? È Reaper che mi avverte che questo file non è compatibile con la mia sessione. Ossia, vi ricordate all'inizio che abbiamo fatto una sessione a 48.000? Questo file è 44.1. Altri programmi non ve lo farebbero suonare. Reaper cosa sta facendo? Sta in tempo reale andando a convertire questo file da 44.100 a 48.000, in modo da non darvi problemi. Vedete che anche il mio organo ha questo tipo di problema, c'è questa piccola i. Come controllo la qualità con cui viene fatta questa conversione? In Project Settings. In Project Settings di base vedete che ci sono queste due configurazioni, ossia playback resample mode e render sample mode. Cosa significa? Che playback resample mode è la qualità con cui Reaper farà queste conversioni in automatico e facendo podcast vi capiterà praticamente sempre. Medium è quella più base, vedete, good già suona bene, potete mettervi in better o in extreme se proprio siete degli sclerati come me. Cosa succede? Mentre lo ascoltate lui userà questa conversione che è molto leggera sul processore. Quando invece poi andremo a salvare il file alla fine di questa produzione, lui userà una qualità maggiore per fare questo resample. Scoprire che cosa sognano, perché lo sognano e soprattutto in quante ore. Ci sono stati molti, molti studi. Benissimo. Mi raccomando, mettete bene i nomi alle cose perché sennò poi vi perdete. Stacchetto musicale, applausi, questa traccia la creata in più non ci serve. Possiamo anche colorare le nostre tracce, è molto molto comodo. Se fate clic destro su una traccia potete andare su track color e ad esempio assegnare un colore a caso. Questa è la mia funzione preferita, gran che sto a cercare il colore. Altrimenti dite set track to custom color e andatevi a cercare il tipo di violetto che più rappresenta il vostro suono. Questo è molto comodo perché vedete che ora se qui vedo viola so subito dove andare per regolare il volume dei miei applausi. È molto molto efficace. Se non vi piace questa visualizzazione che il mixer non diventa più semplicemente la sinistra verso destra ma lui cerca di mettere più canali possibili in meno spazio possibile, potete fare clic destro, mi arrotolo un attimo qui, clic destro sulla targhetta mixer e dovete disattivare il show multiple rows on track. In questo modo vedete che il mio mixer torna ad essere un pochino più comprensibile con ogni traccia con la sua linea. Io lo preferisco così, voi usatelo più come vi pare. Se invece usate il mixer qua sotto vedete che vi ritrovate comunque le vostre tracce tutte in fila dall'uno in avanti. Ora benvenuti al podcast in cui ci sono altri modi di manipolare il volume in ripper delle nostre tracce. Ad esempio ora abbiamo tutta questa introduzione dove abbiamo fatto tutti questi tagli ed è un po' scomoda da portare in giro se vogliamo diciamo spostarla e arrangiarla. Possiamo fare in modo di farla trattare tutta come un unico oggetto. Se noi selezioniamo tutta la nostra introduzione per farlo trasciniamo il tasto destro, vedete che il selettore diventa una selezione multipla, oppure come in tutti gli altri programmi tenendo premuto il tasto maiuscolo a shift possiamo cliccare dal primo all'ultimo. Quindi ad esempio se io tengo premuto shift e faccio da qui a qua o da qui a qui lui mi selezionerà tutte queste clip evidenziandole con appunto un colore più vivace. Ho due soluzioni, o faccio ctrl g, scusate o faccio g senza il ctrl e vedete che adesso tutte queste clip sono circondate da questo verdino che è il simbolo per cui io dico a ripper che questo qui è un gruppo, ossia vedete che ora ovunque io clicco mi verrà trattato come un unico blocco, un unico elemento. Questo è molto molto comodo. Ad esempio se attivo il ripple editing vediamo che sposto tutto assieme, se invece lo spengo sposto soltanto la prima traccia. So che il ripple editing non è facilissimo da capire ma una volta che ci avete pasticciato sopra vedete che lo amerete. Questo è un modo, l'altro modo è quello di selezionare tutto, fare clic destro e fare glue. Cosa fa il glue? Il glue andrà a stampare il nostro file e crearne uno nuovo singolo. Quindi lui avrà creato nella cartella del nostro progetto questo file 1 voce introduzione 2 1 9 1 3 8 6 glue ed. Quindi avrà creato un nuovo file con all'interno tutti i miei tagli, tutti i miei fade, tutti i miei cambiamenti di volume saranno compresi in questo glue perché fisicamente ristamperà il file. Ora che abbiamo fatto questa cosa mi rendo conto che non abbiamo ancora salvato il progetto. Vedete che qua in altro ci dice unsaved project. Se in questo momento avessi un crash di sistema io perderei completamente questa sessione molto molto scomoda. Quindi vi consiglio di fare file save project as andare ad esempio sul vostro desktop dove volete. Io faccio una sessione che si chiama ciraulo tutorial e mi si presentano delle opzioni. Io vi consiglio sempre di creare una sub directory per il progetto. Quindi lui creerà una directory che si chiama ciraulo tutorial e poi potete anche andargli a dire copia tutti i miei media dentro questa directory. Ossia prendi tutti i file che ho registrato, di cui ho fatto il glue, che ho importato ad esempio dalla mia libreria di musiche e vammeli a copiare in questa cartella. Io faccio salva, lui avrà fatto tutte le copie. Ora io sul desktop mi ritroverò la mia cartella ciraulo tutorial con all'interno tutti i miei file. Ossia la mia registrazione originale, la mia voce di cui ho fatto il glue, il mio loop di organo e il mio applauso. Quindi lui prende tutto quello che c'è in quel momento nella sessione e lo va a portare appunto nella mia cartella. Una volta che abbiamo questo file tutto condensato possiamo anche premere F2 e andare nelle proprietà di questo white. Qui possiamo fare diverse cose. Possiamo cambiare nel volume, ad esempio se faccio normalize e faccio applica, lui mi andrà a spostare il picco di registrazione più alto e lo andrà a portare a zero. E' una cosa che vi sconsiglio, ci sono modi migliori di fare il volume ma se volete normalizzare è qua dentro. Possiamo cambiare anche da qui il volume della nostra take. Possiamo cambiarne anche la velocità di riproduzione. Ad esempio se volessi suonare a 2x faccio playback rate 2 e vedete che ora... Benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Podcast in cui... Posso scegliere anche il playback rate. C'è un altro modo per attirare il nostro audio. Mettiamo che abbiamo un ospite che è particolarmente prolisso come me e non parla in modo molto veloce. Se tengo premuto il tasto alt e vado nel bordo di destra o di sinistra della mia clip vedete che il mouse diventa una manina. Se io adesso trascino la mia clip posso accelerarla o rallentarla a mio piacimento. Allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle... Oppure possiamo fare una cosa molto... Allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni... Così ci addormentiamo noi e non le pecore. Quando facciamo questo tipo di operazioni ci sono diversi modi per strecciare l'audio con una qualità un pochino migliore. Se noi andiamo su F2 innanzitutto vediamo che lo stretch che abbiamo fatto a mano equivale a 0.591497 ma soprattutto lui ci chiede ok come vuoi strecciarlo? Ci sono diverse modalità. Quella normale la 3.3.3 Pro è quella che meglio si adatta alle musiche. Se volete accelerare o rallentare una base musicale l'Elastic 3.3.3 è la migliore. Altrimenti ci sono delle library molto belle che si chiamano Soloist dove c'è una modalità speech che è fatta apposta per il parlato. E vedete che ora se l'applico il mio parlato strecciato suonerà molto meglio. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo in... Così è molto divertente. Lo ascolterei 10 su 10 5 stelle su YouTube. Quindi ora posso andare a spostare la mia introduzione perché ovviamente la mia intro è più lunga. Magari non esageriamo, rallentiamolo di poco. Spostiamo la mia intro, spostiamo il mio applauso. Sognano moltissimo in questo podcast delle pecore. Le pecore. Delle pecore. Le pecore sognano moltissimo. Fantastico. È il momento di parlare degli effetti integrati di ipercison equalizzatori, limiter, compressori. Andiamo anche un po' a parlare di come io di solito consegno i miei podcast. Come prima cosa di sicurezza sul master, ossia tutte queste tracce, queste tre tracce, confluiscono nella mia traccia master. Questa qui è praticamente il volume finale del mio audio. Su questa traccia di solito vado a mettere un limiter. Quindi se cerchiamo limiter, nei miei effetti, abbiamo tutti questi JS che sono gli effetti integrati di Reaper, vado a mettere un master limiter, perché appunto sono sul master. E allora benvenuti al podcast che cosa fa? Mi protegge dal clipping. Ossia se io spingessi la mia voce molto molto in alto di volume. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo. Senza questo master rischierei di clipare qua sopra. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. In questo caso, ad esempio, se tenessi il volume della traccia molto molto alto, senza questo master limiter, e allora benvenuti al podcast in cui parleremo, sentite che la voce gratta, appunto perché non c'è niente a proteggere il mio master. Se appunto invece metto un master limiter, eccolo qua, la mia voce sarà protetta, buona pratica, anzi è obbligatorio nell'audio digitale, non avere il master in rosso. Questo master limiter cosa fa? Ogni volta che c'è un picco che supera questo valore, cioè il meno 3, lui me lo andrà a schiacciare. Quindi so che il mio volume massimo sarà appunto 0, perché lui mette diciamo una una trishold di sicurezza a meno 3 e poi me l'alza, vedete, a meno 0,1, perché io ho riperso tutti un po' degli sclerati. Torniamo con la nostra voce a zero clip. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Questo qui è il nostro meter di volume. Sul volume nei podcast c'è uno sclero infinito, c'è chi lo misura con i lufs, ci sono tantissime di queste operazioni molto molto complesse. Il mio consiglio è, la voce dovrebbe stare circa RMS zero. Come si misura su Reaper? Reaper ha praticamente due meter integrati nel suo master. Quello centrale che sono i picchi, che sono appunto quelli che non devono diventare rossi, non devono andare sopra lo zero, e l'RMS che sono i due laterali. Una buona voce di un podcast dovrebbe avere le due barrette laterali che vanno sullo zero. Come facciamo a dargli più volume? Abbiamo diversi modi. I due effetti principali di Reaper sono il Re e Q, che è un equalizzatore, e il Re a Comp, che vediamo assieme. Quindi questo qui è un equalizzatore grafico, possiamo quindi avere delle solite bande di equalizzazione, ora non vi spiego cos'è un equalizzatore, se no questo corso diventa da 10.000 ore. Però questo è l'equalizzatore grafico di Reaper, molto bello, suona molto bene, ci puoi fare quello che vuoi. E questo qui invece è il compressore di Reaper, ossia questa è la vostra threshold, qui avete la ratio e l'attacco e il rilascio. Le mie impostazioni per le voci di solito sono così. Come prima cosa metto un iPass, in modo da togliere tutte quelle che sono le frequenze sotto i 100 Hz, non c'è niente lì sotto di veramente importante per una voce umana. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. E poi con il compressore vado appunto a cercare di colpire questo zero RMS di cui vi dicevo. Quindi ad esempio posso dare più guadagno in uscita dell'equalizzatore. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo in questo podcast. Mi manca ancora un pochino. Cosa posso fare? Posso andare a settare questo compressore. Di solito per la voce una ratio consigliata di 4-1 in modalità feedback. Andiamo a scendere con la threshold. E allora benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo. In questo podcast andremo a scoprire che cosa sognano, perché lo sognano e soprattutto in quante ore. E poi vado a settare il mio output in modo appunto da colpire questo zero. Ci sono stati molti molti studi da parte della Oxford University che sono andati a indagare su questo mistero che è il sogno delle pecore. E lo andremo a scoprire in questa puntata. Ora, sull'equalizzazione delle voci potremmo star qui a parlare veramente dei giorni, giorni, giorni interi. Una delle cose che vi consiglio, che è la cosa più facile che potete fare, è ascoltare altri podcast più famosi del vostro e sentire come suonano le voci e compararle con la vostra. È lì dove dovete farvi delle domande tipo quanto è brillante, quante basse ci sono nella voce che sto sentendo, quanta nasalità c'è nel podcast che sto andando ad ascoltare. E poi con l'equalizzatore andare a emulare questo suono che vi piace. Ad esempio, se vi sentite molto opachi, potete usare un high shelf per darvi un po' di brillantezza. E allora, benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo e in questo podcast andremo... Possiamo aumentare la nasalità. E allora, benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano... E allora, benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo e in questo podcast andremo a scoprire che cosa sognano, perché lo sognano e soprattutto in quante ore. Ci sono stati molti, molti studi da parte della Oxford University che sono andati a indagare. Quindi questo qui è un modo di andare a trovare un po' il suono della propria voce. Poi qui è il discorso veramente infinito. Vi sto spiegando Ripper e non proprio il mix di un podcast. Magari, Andrea, se ti interessa una roba più approfondita, si può fare. Magari sarebbe bello che uno dei tuoi ascoltatori mi manda il suo podcast e io glielo mixo. Questa sì che è un'idea. Altri effetti che ci interessano in Ripper per andare a migliorare i nostri podcast è ad esempio il denoiser. Facciamo così, mi mando un messaggio vocale, mando un messaggio vocale a me stesso in modo da avere all'interno un po' di rumore di fondo da rimuovere dai messaggi vocali con Telegram a me stesso. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Andiamo questo messaggio vocale, lo andiamo a importare in Ripper, quindi come vi dicevo prima, se andiamo a caricare un qualsiasi file possiamo semplicemente trascinarlo in Ripper. Quindi questo qui è il mio audio. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Possiamo tagliare l'inizio, tagliare la fine, sempre con il tasto S e andiamo a vedere appunto un po' il rumore di fondo. Vedete che c'è un po' di rumorino di fondo che potrebbe darci fastidio. Abbiamo due modi per combatterlo. Uno, molto stupido, che è il Reagate. Qui facciamo intervistato. Gli diamo un colore, track color, random color, verdino, pisello. Abbiamo o il Reagate, che è appunto il Gate di Ripper. Questo cosa ci permette di fare? Di andare alzando questa threshold a spegnere tutto l'audio che c'è sotto questo livello. Quindi vedete che così esce ancora il rumore di fondo. Lo possiamo vedere. Guardatelo qua sul Master. Se io salgo con questa threshold, vedete che ora non ho più rumore di fondo. Però quando parlerò, le parole saranno sopra questa threshold e quindi il Gate si aprirà. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò. E oggi abbiamo anche me. E oggi abbiamo anche... Questo è un modo di togliere il rumore di fondo. Un consiglio abbastanza pro. Usate questo pre-open. Dategli quei 5 millisecondi. Che cosa fa? Semplicemente va a guardare avanti nel tempo. Una cosa che non sarebbe contento Einstein di questa cosa. Però Ripper guarda avanti nel tempo nel file e apre il Gate prima che tu inizi a parlare. In modo che non ti tagli le parole. Se avete un Gate abbastanza aggressivo. Potete giocare sul rilascio del vostro Gate che è la velocità con cui lui poi, una volta che è finito di parlare, andrà a richiudere il Gate dei sogni. Questo è un modo di togliere appunto il rumore in Ripper. L'altro è usare il ReaFear. Il ReaFear è uno strumento abbastanza complicato ma non vi preoccupate, non è così difficile. Il mio consiglio su come usarlo è questo. Mettetevi in loop su una parte in cui non parlate, in cui c'è solo il rumore di fondo. Ad esempio io qui adesso posso attivare il repeat di Reaper o con il tasto R, andare in play e vedete che Reaper continuerà a circolare in questo loop. Vedete che questo qui è il mio rumore di fondo. Io vado nella modalità subtract, attivo la modalità di costruzione del mio noise profile, quindi della forma che ha il mio rumore. La disattivo una volta che ho preso, vedete la forma del mio rumore con tutti i suoi problemi che aveva questo telefonino, tolgo il loop e vado a sentire. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Io posso anche cambiare quanto è forte questa riduzione del rumore tenendo premuto il tasto CTRL e draggando verso l'alto, verso il basso, questa forma che è la forma del mio rumore. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò. Sentite che posso cambiare la forza di questo denoiser. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Come per l'altra voce posso mettere un re-EQ, ad esempio sento che rispetto al mio microfono professionale questa voce è molto scura, vado a tagliare le basse. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Posso mettere un re-Acomp per andare a toccare sempre quel famoso 0RMS di cui vi parlavo, ratio 4, attacco lento, modalità feedback. Oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, sentite quella cosa che vi dicevo prima, ad esempio se io volessi fare in modo che questo audio suoni il più simile possibile a quello registrato con l'altro microfono, dovrei continuare a come ospite che vi spiegherò, questo mistero che è l'ospite che vi spiegherò, a girare tra questi due audio e andare con l'equalizzatore, facendo doppio clic e poi possiamo creare un nuovo nodo. Universiti che sono andati a indagare, ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Se andiamo a mettere questo vocale sopra la mia introduzione, poi con l'automazione di take, puntata. E oggi abbiamo anche me come ospite che vi spiegherò, che a volte hanno anche degli incubi e non soltanto dei sogni. Possiamo andare a togliere il mio... Dei sogni. Togliamo le mie imprecisioni. Possiamo tagliare questo audio. Allora, benvenuti al podcast in cui parleremo dei sogni delle pecore. Le pecore sognano moltissimo e in questo podcast andremo a scoprire che cosa sognano, perché lo sognano e soprattutto in quante ore. Ci sono stati molti... E qui poi potrebbe iniziare il mio podcast andando avanti. Francesco è tutto molto bello. Come salvo il mio file? Vi raccomando ogni tanto fate CTRL S per salvare. Se siete dei dimenticoni come me e il CTRL S vi viene difficile da ricordare, nelle preferenze di Reaper, cioè opzioni, preferenze, c'è una modalità di autosalvataggio. Andate in Project e vedete che potete attivare la modalità autosalvataggio ogni 15 minuti o ogni 5 minuti, ad esempio. Quindi lui ogni 5 minuti, quando non registra, puoi stampare una copia di sicurezza della tua sessione. Lui nel progetto praticamente dove state stampando, quindi nella cartellina Ciraulo Tutorial, che ora non vedo, andrà a crearvi più RPP. Vedete che ci sono degli RPP di salvataggio con la vostra sessione. Il file RPP sarà la vostra sessione, ma adesso vediamo come esportare, ad esempio, un MP3 per andarlo a caricare sul vostro podcast. Selezionate la porzione di audio che volete esportare, tenendo presente, trascinando nella barra sopra in alto. Potete selezionare la vostra porzione di audio e fare File Render. File Render vi porta fuori questa bellissima schermata dove vi chiede, ok, creiamo il file finale del tuo podcast, come lo vuoi e tutte le sue informazioni più importanti. Come Bonds, al posto di Entire Project, gli dico Time Selection, ossia quello che ho appena fatto prima. Ho selezionato una Time Selection e lui vedete che mi dice che parte da zero e arriva fino a 36 secondi e 161. Mi chiede dove voglio salvarla, ad esempio nella cartella della sessione, il nome che voglio dargli, il sample rate 44-48, li fate come siete più comodi, di solito 48, va bene. Se lo vogliamo mono, stereo o superiore, la velocità con cui voglio stamparlo. Full speed offline partirà come un razzo e stampere al file. Online Render, invece, è quello in cui sentite in tempo reale quello che state scrivendo. Quindi, come il vecchio Pro Tools, vi farà sentire tutto il vostro podcast mentre lo sta stampando. Ci chiede un formato, possiamo stampare, ad esempio, un MP3, A320, oppure possiamo stampare un FLAC, o possiamo stampare un WAV, possiamo stampare un Hodge Vorbis, è comodissimo, oppure possiamo anche stampare un Opus, che sono tutti altri formati molto molto performanti, ma possiamo anche stamparne due contemporaneamente. Vedete che c'è un secondario output format. Ripper mi permette, in una sola passata, ad esempio, di stampare il WAV a 24-bit per il mio archivio, e poi, per caricarlo più facilmente su internet, posso stampare un MP3, ad esempio A320, e caricarlo su Anchor, o quello che più vi piace. Ciraulo Tutorials sarà il nome, io faccio Render due file, lui partirà in Render, e mi stamperà il mio file. Qui è dove avete, ad esempio, i dati più comodi. Allora, se non avete messo un Master Limiter, qui potrebbe indicarvi i punti in cui il vostro audio clippa. Adesso ve lo faccio vedere, vi farà delle righettine rosse dove ci sono problemi nel vostro audio, e qua sotto, praticamente, vi dà le vostre informazioni di loudness. Contate che YouTube, di solito, sta sui meno 13 loops, ed è per questo che io consiglio il vostro RMS a zero. Vedete che sono arrivato, praticamente, in modo perfetto a un volume ottimo per la riproduzione su YouTube, Spotify e tutte le altre piattaforme. Potete salire anche più in alto, se alzassi fisicamente tutti i fader del mio mixer, oppure se scendessi con la trisciol del Master Limiter, possiamo ottenere dei loops un pochino più alti. Ve lo faccio vedere, se io scendo con la trisciol del Master Limiter e vado a ristamparlo, avrò un suono più compresso, ma con un loops più alto, meno 11, meno 12, vedete che è più ciccione il mio audio. Se non ho il Master Limiter e faccio un render, quindi potete disattivare un effetto tenendo premuto maiuscola e cliccandolo, e faccio Render File, vedete che lui mi va a segnare i punti in cui il mio audio ha clippato, cioè ha grattato contro il Master e mi segna che è di più 3,3 ed è per questo per cui vi consiglio un Master Limiter. In questo caso abbiamo generato il nostro file, abbiamo messo le musiche, abbiamo fatto l'automazione, abbiamo fatto i fade, abbiamo editato. Che cosa manca? Qui è dove passo la palla alle domande di Andrea. Se hai domande, fammle ora, risponderò subito o ci vediamo nella live che faremo con tutte le vostre domande su Reaper e le cose più avanzate. Insomma, very nice. Grazie, grazie, grazie Francesco. Grazie mille per questo video che vi avevo detto, sarebbe stato strepitoso. Vi ricordo che i link di Francesco sono nella descrizione di questo video. Se volete, come ho fatto io, imparare meglio la gestione dell'audio, Beh, io veramente tutto quello che so fare lo devo praticamente a lui, un preziosissimo canale per quanto mi riguarda una risorsa davvero unica nel panorama di YouTube. Andatelo a conoscere meglio e vi ricordo anche che questo era una parte di una serie, per cui vi linko già nella descrizione di questo video i video successivi, se volete anche fare l'upgrade alle vostre competenze o se volete partecipare o guardare, nel caso in cui la live si sia già tenuta, alle domande e risposte. Per cui trovate tutto nella descrizione del video, così almeno siamo a posto. Per quanto mi riguarda Ciraulo.me, per le cose che possiamo fare insieme, la newsletter, il canale Telegram, Twitch, Instagram e tutto quanto. Insomma, ci vediamo da quelle parti. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino a qui, ringrazio ancora Francesco e vi do appuntamento linkato nella descrizione a tutti gli altri episodi di questa serie. Ciao!